La capitale italiana della cultura è stata pensata dal Ministero dei beni culturali e delle attività del turismo nel 2014. Bitonto ha presentato la propria candidatura per diventare capitale italiana della cultura nel 2020. Assessore Mangini, che progetto avete presentato? È stata una sfida avvincente, difficile e complessa perché per la prima volta ci siamo trovati a dover scrivere ex novo un dossier complicato di 60 pagine che presentasse la città agli occhi di chi non la conosce, penso al Ministero e quindi alla giuria che valuterà i progetti. Lo abbiamo fatto partendo da lontano, già da gennaio, con il primo forum di presentazione di questa idea della candidatura. Siamo arrivati fino all'ultimo forum costituendo sette gruppi tematici che hanno lavorato individualmente, due focus group che hanno affrontato l'analisi SWOT, insomma le criticità e le potenzialità della città, per poi mettere tutto insieme in questo dossier che abbiamo presentato il 15 settembre alla scadenza prevista dal bando. Un dossier che descrive i motivi della candidatura perché riteniamo che la città sia pronta a vivere questa sfida. Il dossier è abbastanza complicato, lo renderemo pubblico a breve di modo che i cittadini, gli operatori del settore possano leggerlo e quindi farsi anche un'idea. Ma il cuore insomma della nostra candidatura è proprio la peculiarità dell'offerta culturale bitontina, una città non capoluogo, una delle poche città non capoluogo di provincia o di regione che si è candidata tra le 46 italiane e che ha un'offerta culturale variegata, abbastanza caratterizzata, che diciamo si fonda su 3-4 grosse progettualità che abbiamo enfatizzato nel progetto. Penso al progetto Bitonto Città dei Festival con i suoi 22 festival, altra et opera festival che ha questo respiro internazionale non solo verso il Giappone ma verso anche altri continenti. Penso a Cortili Aperti e quindi alla grande iniziativa di valorizzazione del patrimonio e ad altri progetti che abbiamo introdotto come startup proprio per il 2020 in caso di vittoria di questa sfida. Insomma un progetto complesso fatto insieme agli operatori del settore, fatto insieme ai cittadini che hanno partecipato ai forum ma soprattutto un progetto che al di là di come andrà a finire, se arriveremo in finale, se vinceremo, se non arriveremo in finale, sarà la base per quello che abbiamo più volte chiamato il piano strategico della cultura e del turismo per i prossimi dieci anni. Un piano che non è ovviamente finito ma che rappresenta, parlo del dossier, la bozza iniziale per rimetterci mano anche con altri operatori, altri cittadini che vorranno dare il loro contributo. Negli scorsi anni sono state nominate capitali italiane della cultura a città come Mantova, Pistoglia, Palermo. Non le sembra un po' pretenzioso per Bitonto poter aspirare ad una nomina del genere? La sfida è complessa e sicuramente insomma non partiamo tra i favoriti mi sembra ovvio, ci sono città più titolate, riconosciute a livello internazionale come culle di arte, di cultura, di architettura. Però abbiamo creduto opportuno candidarci in questo momento storico perché ci siamo accorti che l'investimento e il grande lavoro sulle politiche culturelle e turistiche fatto negli ultimi cinque anni ha dato i suoi frutti non solo all'interno della città con questa nuova vivacità culturale, questa movida culturale che poi è diventata anche economico e commerciale soprattutto nel centro antico, ma soprattutto la città di Bitonto oggi viene percepita come una città in cui si sperimentano nuovi metodi di partecipazione culturale, nuovi metodi anche di produzione, ci sono i festival, insomma c'è tutta una serie di attività che secondo noi può essere riconosciuta come un valore nuovo anche come riscatto sociale della città da parte del ministero. In più, lo abbiamo scritto nel primo capitolo i motivi della candidatura, Bitonto si candida anche come testa di ponte se vogliamo di tutta un'area metropolitana murgiana che è da sempre esclusa dai grandi flussi turistici e culturali, si pensa al Salento, al Gargano, alla Valle d'Itria e che comunque è strategicamente forse la migliore area per quanto riguarda soprattutto i flussi di persone, il movimento di persone, di artisti, di turisti, visto che siamo vicinissimi all'aeroporto, vicinissimi al porto di Bari e su tutti gli assi viari più importanti della regione. Ecco perché abbiamo voluto candidare la città ma anche insomma la terra di Bari e in Bitonto far riconoscere una candidatura condivisa anche da altri enti e altre istituzioni sovracomunali. Quindi la sfida è difficile, realisticamente sarebbe un grandissimo successo arrivare tra le prime dieci città finaliste. Vorrà dire che abbiamo fatto un buon lavoro, soprattutto nella fase preparatoria del dossier e lo ripeto, cosa più importante, avremo in mano una sorta di magna carta della cultura del turismo su cui dirigere le politiche culturali e turistiche pubbliche e private per i prossimi dieci anni. Questo è il vero obiettivo e la grande sfida. Indaco Michele Abaticchio, un progetto ambizioso, forse un po' folle, ma che gode del sostegno delle istituzioni. Sì, è notizia di oggi pomeriggio e ci hanno risposto tutti positivamente, io sinceramente non me l'aspettavo, però possiamo dire che tra gli otto dei 45 in Italia comuni pugliesi presenti, Bitonto è quella che ha avuto il supporto ufficiale entrando nel comitato promotore di regione Puglia, Ancipuglia e città metropolitana di Bari. Questo ovviamente ci riempie di orgoglio e crea anche un grosso senso di responsabilità verso questo percorso. Spero che ci sia un comune pugliese tra i dieci finalisti e spero che ci siamo noi in quel comune pugliese, ovviamente.